Stai...perpetualmente piangendo? Ma...non sto piangendo...questo è come solo sempre... Ma un secondo...tu non sei pigro? Beh, sono stato pigro per un bel po' di tempo. Inizialmente quando sono presso qui tutto quello che facevo era dormire. Io non ero proprio sicuro di cosa fosse successo o del perché io ero lì. Ed ho dormito e dormito e dormito finché è diventato noioso. E dopo ho parlato, ho alzato la voce, ho urlato e ho cominciato a urlare, urlare e urlare. Qualcuno avrebbe sentito, giusto? Qualcuno avrebbe aiutato ma nessuno venne. In cui lui ha cominciato a dormire lì dietro. Error, 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 Error. Aspetta, di chi vado a parlare? Una domanda per Error Sans, non è da parte tua ipocrita uccidere i glitch nonostante anche tu sia un glitch? Quindi perché non ti suicidi? Penso dipende dalla prospettiva. Certo, anch'io sono un glitch, ma a differenza degli altri, l'ultima volta che io ho controllato, io sono l'unico che porta fuori la spazio 2. Chi è Sans Abominazione 1? Eh eh eh, meh, io sono il numero 1.